Cavallo che vince non si cambia, al limite si migliora e si affina. Nisman e Bischoff guarda al 2016 con pochi significativi affinamenti su quelle che sono le due storiche gambe in produzione, quindi Art e Flair, con nuovi modelli che entrano a far parte della gamma per soddisfare ancora più le esigenze di una clientela esperta ed esigente alla ricerca di veicoli di prestigio eleganti da utilizzare in qualsiasi clima. La serie Arto, gamma centrale del costruttore tedesco, vede l'introduzione di una nuova zanzariera per la porta d'ingresso, più facile nello scorrimento, di una nuova porta d'ingresso che è stata migliorata ed affinata in diversi dettagli e sull'introduzione di nuovi accessori. La gamma Arto poi si arricchisce di tre nuove proposte. Partiamo dal più compatto. 7,23 m di lunghezza caratterizzano il nuovo Arto 72L, versione che evolve la pianta del apprezzato e conosciuto 66L, quindi con letto matrimoniale trasversale posteriore. Rispetto al progenitore, che rimane comunque confermato contenendo quindi la lunghezza 6,99, la nuova versione cresce nello sviluppo del living anteriore che può contare su una ventina di centimetri in più a garanzia di 5 posti comodi intorno al tavolo centrale ed ampliabile come la tradizione Nisman & Bischoff. Seconda importantissima nu entry nel catalogo Nisman & Bischoff è rappresentata da Arto 79F, modello da 7,93 m di lunghezza, che rappresenta l'evoluzione del precedente 76F, quindi una vera e propria camera da letto con matrimoniale centrale nautico che può essere richiesto sia in posizione più bassa, quindi con una maggiore facilità di accesso al letto e un gavone garage sottostante con altezza di circa un metro, o in versione più alta con gavone garage da 1,25 m e chiaramente maggiori spazi di stivaggio. La camera prevede poi la classica toilet passante con doccia indipendente di tipo wellness e una zona a servizi con blocco cucina L completo di colonna a frigo separata e tech tower, quindi frigorifero, freezer e forno a gas, e un living anteriore con la classica dinetta L e divanetto laterale. Con una lunghezza di 8,76 m il nuovissimo Arto 88EK riprende la pianta del confermato Arto 88E, quindi una camera da letto con letti gemelli posteriori, una ampissima zona centrale dedicata ai servizi con toilet wellness, con doccia indipendente, locale WC in un ambiente separato, grande spazio poi per il living anteriore. La novità che questo veicolo porta con sé è quella di una diversa distribuzione degli spazi per ciò che concerne il soggiorno e il blocco cucina, con la zona cucina che può contare su più centimetri a garanzia di una maggiore praticità di utilizzo, e la possibilità di avere gli armadi sotto i letti posteriori in aggiunta al classico armadio collocato a fianco alla toiletta. Questo modello, come tutti i modelli della serie 88, è oggi disponibile anche con WC nautico da 120 litri, con valvola di scarico a comando elettrico. Pienamente confermata è poi, logicamente, la gamma Miraglia Flair, con l'introduzione del nuovo cambio automatico iMatic, disponibile in versione 205 CV, quindi con la motorizzazione più potente, e l'introduzione di un nuovo modello. A fianco, infatti, alle versioni già conosciute ed apprezzate, Nisman presenta il nuovo Flair 920 LS, cioè una pianta da 9,26 m di lunghezza che riprende la classica disposizione con letti gemelli posteriori, introducendo però una vera e propria cabina armadio tra zona toilet e ambiente di coda, in modo da offrire la massima capacità di stivaggio. Grazie. Grazie. Grazie.